Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete anche seguirmi su Instagram ma soprattutto vi ricordo che sono attiva anche su Facebook, vi lascio il link nell'info box. Detto questo, diamoci dentro col video. È la notte del 29 dicembre del 2000. Per strada ci sono ancora le luminarie di Natale e mancano due giorni all'ultimo dell'anno. Per Giovanna Petrocca, funzionario della squadra mobile di Roma, la notte scorre lenta, è il dirigente di turno della questura della capitale e nessun imprevisto si è verificato. Fino a quando giunge un fonogramma dalla polizia stradale di Cassino, in provincia di Frosinone. In realtà il fonogramma in questione è diretto a tutte le procure d'Italia e comunica che il corpo di una donna è stato rinvenuto su una piazzola dell'autostrada che da Napoli porta a Roma, immediatamente prima dell'uscita di Cajanello. A trovare il cadavere è stato un camionista che guidava lentamente, con prudenza, verso Caserta. A un certo punto ha notato qualcosa di strano sulla piazzola della corsia opposta. Insospettito ha preso l'uscita autostradale di Cajanello ed è tornato indietro. Una truce visione si è manifestata con più chiarezza davanti ai suoi occhi. Il corpo esamine è di una donna, immerso in un lago di sangue. Il luogo del rinvenimento, come accennato, non è competenza di Roma, ma di Caserta. Infatti Cajanello dista oltre 100 chilometri dalla capitale. La vittima inizialmente viene segnalata come una probabile passeggiatrice. In primo luogo perché gli agenti non individuano, nelle vicinanze, nessuna vettura che potrebbe ricondurre a lei. In secondo luogo per il suo tipo di abbigliamento. Indossa una minigonna, delle calze a rete e degli stivali. Passano alcune ore e alla questura di Roma giunge la notizia che in via Isarnico, nel quartiere Quadraro, un'automobile è in pasto alle fiamme. Una pattuglia si dirige sul posto e gli agenti esaminano una Volkswagen Golf completamente distrutta dal fuoco, ma dalla quale è recuperabile, ovvero leggibile, almeno la targa. Un dettaglio fondamentale. Gli agenti così risalgono all'intestatario della macchina, una certa Maria Scarfò. Passata circa mezz'ora, la squadra mobile di Caserta trasmette a Roma un altro fonogramma, perché nella tasca del giubbotto della donna deceduta in autostrada viene rinvenuta una tessera. Si tratta di una card di raccolta punti erogata da un supermercato di Roma e intestata proprio a Maria Scarfò. Il collegamento è lampante. Il cadavere di Cajanello e l'automobile incendiata nel quartiere Quadraro a Roma appartengono alla stessa donna. Sono ormai le sette del mattino e non è più il tempo di fare supposizioni. Dalle ricerche degli agenti non è emerso nulla di particolare. Maria Scarfò non è schedata, non ha precedenti penali, non risulta proprio che sia una passeggiatrice. È una donna di 36 anni che abita a Roma con la sua famiglia, è sposata ed è una mamma di una bambina di otto anni. Inoltre ha un lavoro, gestisce un bar con suo fratello Alfonso nel quartiere Quadraro in via dei Fulvi. I dettagli della sua vita stanno prendendo forma, ma nessuno sa ancora spiegarsi perché il corpo di Maria sia stato rinvenuto a più di 100 chilometri di distanza da casa sua. Perché si trovava nei pressi dell'uscita di Cajanello? La sua salma intanto viene trasferita in un obitorio a Caserta. Gli agenti rintracciano i familiari di Maria e convocano in questura il marito Sandro e il fratello, Alfonso. I due uomini riferiscono che fin dalla sera precedente, cioè dalle 21.40 del 29 dicembre, stavano cercando la donna, scomparsa, mentre ritornava a casa dal bar. Maria era uscita, come al solito, dal suo locale alle 20.15, ma intorno alle 21.37 aveva fatto una chiamata a suo marito per informarlo che avrebbe fatto tardi a causa di un imprevisto. Dopo questa telefonata erano sparite le tracce di Maria Scarfò. Raccolte queste informazioni, una pattuglia viene inviata al Quadraro alla ricerca di ulteriori testimonianze. Qualcuno, per caso, ha visto Maria? Era forse preoccupata per qualcosa? Un ragazzo impiegato in un negozio di gomme per automobili in piazza al Quadraro riferisce che, intorno alle 20.30 del 29 dicembre, come quasi tutte le sere, ha visto Maria che usciva dal bar. Aveva in mano una busta, attraversava la piazza e si dirigeva verso la sua vettura, parcheggiata lì vicino. Dopo qualche minuto il gommista ha visto sfrecciare la macchina di Maria davanti alla sua ufficina, ma alla guida non c'era lei, che occupava il sedile del passeggero, bensì un uomo. Di lì a poco un altro testimone si fa avanti, è un signore che abita in zona. E conosce Maria molto bene, perché frequenta il suo bar abitualmente. Racconta che la sera del 29, intorno alle 20.40, è uscito da un negozio di elettronica dove ha comprato un cavetto per il computer, negozio che si trova in via degli Opimiani, una traversa parallela a via dei Fulvi. Ha visto Maria in macchina, seduta sul lato passeggiore con la testa appoggiata al finestrino, in quel momento, al posto di guida. Non c'era nessuno. L'auto era ferma in doppia fila davanti a una bisca, con il motore acceso. Lo sportello di guida non era stato chiuso bene, infatti era accesa la luce di cortesia dell'automobile. Oltre a Maria, il testimone scorge anche delle persone e dalle facce inquietanti davanti alla bisca, un luogo che pare non sia ben frequentato. Lui non conosceva nessuno di loro, ma gli avevano destato un po' di timore. L'uomo voleva attraversare la strada per andare a salutare Maria e fargli gli auguri di fine anno, ma come racconta agli agenti, qualcosa nello sguardo della donna lo ha bloccato. Quindi ha preferito non avvicinarsi ed è andato per la sua strada. È lui l'ultima persona ad aver visto Maria in vita. Torniamo al marito di Maria, Sandro. L'uomo dice alle forze dell'ordine che il 29 è tornato a casa un po' prima dal lavoro perché la figlia aveva l'influenza. Infatti ha chiesto a Maria di comprare delle medicine mentre era di ritorno dal bar. Non vedendola arrivare, Sandro ha cominciato a impensierirsi, ma non pensava a qualcosa di grave. Alle 21.37, come vi ho già detto, è stata Maria a chiamarlo, limitandosi a dirgli ho avuto un imprevisto. Sandro, però, durante questa breve telefonata, ha l'impressione di sentire dei lamenti da parte di Maria e ha la sensazione che qualcuno le abbia strappato il telefono di mano, proprio per troncare la conversazione prima che altro potesse trapelare. Questa è l'ultima traccia di Maria Scarfò. Sandro prova a richiamarla, ma all'inizio non riceve risposta, poi risulta che sta a chi le chiamate. Il successivo esame delle celle telefoniche e dei tabulati del cellulare di Maria fornisce agli inquirenti un dato preciso. Alle 21.40, la donna si trovava sull'autostrada Roma-Napoli all'altezza di Frosinone. In particolare, la cella aggancia il comune di Patrica. La domanda sorge spontanea. Perché la persona intenzionata a uccidere Maria l'ha portata sulla Roma-Napoli? L'ipotesi della rapina viene immediatamente scartata in quanto lei aveva ancora addosso dei gioielli. In un primo momento era sembrato che la sua borsa fosse sparita, ma invece si trova nella sua macchina. Le autorità di Roma non si dirigono a Cajanello perché per ora non ne ravvisero la necessità, ma soprattutto perché il cadavere, come detto, è stato portato via. Si recano sul luogo del ritrovamento qualche giorno dopo. Dai verbali sottoscritti dalla polizia stradale, dalla polizia scientifica e poi dalla squadra mobile di Caserta emerge una scena molto cruda. Maria era stata ritrovata a Bocconi con la gonna un po' sollevata. Presentava delle ferite all'altezza delle ginocchia e le calze a rete erano strappate proprio in questi punti. Un tacco del suo stivale era rotto. Il foulard che indossava era annodato nella parte anteriore del capo con i lembi all'indietro. Tra l'altro sul collo si evidenziano dei segni riconducibili a un tentativo di soffocamento con un mezzo morbido come potrebbe essere proprio il foulard. Infine, la testa è stata fracassata da 52 colpi che hanno determinato la causa del decesso. L'arma del delitto per il medico legale che ha eseguito l'autopsia è compatibile in una percentuale molto alta col cric della macchina. L'esperto arriva a questa conclusione per la forma delle ferite che Maria riporta sul capo. In ogni caso, l'arma del delitto viene cercata in zona per intere giornate ma non viene mai trovata. La presenza di sangue sul posto accerta senza ombra di dubbio che Maria è stata uccisa proprio lì sull'A1 all'altezza di Caglianello. Il medico legale dichiara anche che Maria non ha subito violenza intima né ha avuto alcun rapporto intimo inoltre nel momento del delitto aveva il ciclo. Gli inquirenti di Roma che hanno analizzato la macchina bruciata ritrovata al quadraro non considerano realistica l'ipotesi che l'arma del delitto sia il cric in quanto è una delle poche cose rimaste intatte dopo l'incendio. Stava nel suo alloggio sotto la gomma di scorta perfettamente pulito. Se l'assassino avesse davvero utilizzato il cric per colpire a morte Maria vorrebbe dire che la sera del 29 dicembre col traffico intenso della Roma-Napoli nel periodo delle vacanze l'omicida avrebbe fermato la macchina smontato la ruota di scorta preso il cric e commesso il delitto per poi pulire e risistemare il cric al suo posto. È un'ipotesi alquanto tirata per i capelli l'assassino si sarebbe ampiamente esposto al rischio di essere colto in flagrante mentre colpiva Maria sulla piazzola di sosta. Gli investigatori di Roma Giovanna Petroc e i colleghi sono invece abbastanza convinti che l'arma del delitto sia il calcio di una pistola. Le loro intuizioni potrebbero avere fondamento ma senza effettuare un'ulteriore autopsia non si può contraddire la perizia eseguita da un medico legale. Tuttavia è determinante individuare correttamente l'arma del delitto. Qualora non si trattasse del cric ma del calcio di una pistola si configurerebbe un altro tipo di omicidio. Siamo davanti a un omicidio d'impeto se l'assassino uccide la vittima con un mezzo contundente che si è ritrovato tra le mani ma si potrebbe invece presumere che l'omicidio fosse premeditato se l'assassino aveva con sé una pistola. Di conseguenza anche il movente che lo ha spinto a compiere il delitto potrebbe variare oltre al tipo di reato commesso. Giovanna Petroc pensa che i fatti si siano svolti così. Maria e il suo assassino erano fermi lei ha cercato di scappare lui l'ha inseguita Maria è caduta a pancia in giù ecco perché il tacco di uno dei suoi stivali si è rotto e perché le sue ginocchia presentavano delle scoriazioni. L'assassino è riuscito ad afferrarla agguantando con la mano sinistra il fular che Maria indossava al collo e così si spiegherebbero quei segni di soffocamento da un mezzo morbido. Mentre Maria era ancora a terra pancia in giù l'assassino l'ha bloccata posizionandole un ginocchio contro la schiena infatti lei aveva anche le costole posteriori rotte. Con la mano destra l'assassino ha impugnato una pistola dalla canna e l'ha massacrata letteralmente colpendola con il calcio dell'arma alla testa svariate volte. Dall'analisi dei tabulati intanto è emerso che Maria aveva normali contatti con la famiglia con le amiche con altre mamme e un contatto piuttosto assiduo con un uomo della sua età. Dalle investigazioni risulta che Maria aveva avuto una relazione con lui dunque si sentivano ancora per telefono e di tanto in tanto si vedevano per prendere un caffè e fare quattro chiacchiere. Maria Scarfò aveva forse una relazione extra coniugale con lui? Gli inquirenti convocano l'uomo e nel frattempo eseguono degli accertamenti. Sembra che lui sia una brava persona non ha precedenti è sposato e sua moglie è in dolce attesa. Giovanna Petrocchi ipotizza proprio che tra lui e Maria vi fosse una relazione segreta e che a un certo punto Maria fosse diventata pressante magari voleva ottenere di più di una storia nell'ombra e lui temeva che sua moglie in attesa del loro primo figlio scoprisse il tradimento. Dunque forse quella sera l'uomo e Maria si erano incontrati per avere un chiarimento oppure lui l'aveva aspettata vicino alla macchina per costringerla ad affrontare una discussione ma poi la situazione era degenerata terribilmente. Perché erano andati a oltre 100 km di distanza? Beh forse per evitare che qualcuno li vedesse. L'uomo in questione dichiara di avere un alibi per la notte del delitto era a casa con sua moglie e sua suocera. Mentre la moglie conferma subito la sua avversione si rilevano alcune incongruenze su quanto dichiarato dalla suocera dunque gli inquirenti non hanno la certezza assoluta che dica la verità. Inoltre anche la moglie non sembra poi così attendibile gli agenti hanno la sensazione che avrebbe protetto il marito a prescindere. Sulla scota di tutte queste informazioni si sviluppa una serie di indagini supportata dall'attività tecnica intercettazioni e soprattutto accertamenti a ritroso ma ahimè non emerge nulla di rilevante. L'unica attività che destava sospetti lasciando ipotizzare che Maria e l'uomo in questione fossero amanti era l'assiduo contatto telefonico tra loro ma non affiora altro. A questo punto siccome non si delineano altre piste valide da percorrere le indagini si arenano fino a quando c'è un risvolto. La novità proviene da un ulteriore risultato dell'autopsia che riguarda i test tossicologici e altri esami sugli organi interni di Maria. Dall'analisi del suo stomaco emerge che Maria avrebbe bevuto un caffè. La bevanda dal momento dell'assunzione fino a quello della digestione era rimasta nello stomaco al massimo per un'ora circa. Quando subentra un evento violento come la morte si bloccano i processi digestivi quindi ciò che è presente all'interno dello stomaco vi rimane. Dunque in base ai tempi esaminati Maria potrebbe aver preso il caffè durante il tragitto in autostrada quindi forse lei e l'assassino avevano fatto una sosta in autogrill. Quindi ricapitolando l'uomo che guida la macchina di Maria e che poi la ucciderà non solo le permette di fare una telefonata al marito dal suo cellulare ma poi vittime e caranefice potrebbero essersi fermati a prendere un caffè. Questo suggerisce a Giovanna Petrocca di continuare a sospettare che l'assassino fosse una persona ben conosciuta dalla vittima. A questo punto gli inquirenti che fanno si recano in ogni autogrill presente sull'autostrada del tratto tra Roma e Caserta e viceversa e acquisiscono tutti i VHS relativi alle registrazioni della videosorveglianza. Le videocassette vengono consegnate alla scientifica che le riversa sui propri dispositivi e stampa migliaia di fotografie nella speranza di riconoscere Maria e il suo accompagnatore tra gli avventori degli autogrill. Tuttavia Maria non appare in queste fotografie così gli inquirenti iniziano a scoraggiarsi temendo che anche questa pista sia un vicolo cieco. Però non si arrendono continuano a guardare e riguardare quelle foto e durante un pomeriggio emerge qualcosa. Mentre Giovanna Petrocca sta guardando una foto ha un tuffo al cuore perché le sembra di riconoscere una persona. Si tratta di un soggetto che fa un lavoro particolare identificabile anche grazie alla divisa che indossa un uomo noto per i suoi atteggiamenti violenti sia al lavoro che nella vita privata. Giovanna Petrocca decide di indagare e scopre che aveva degli interessi proprio nella zona del quadraro. In effetti aveva abitato in pianta stabile al quadraro fino a qualche anno prima poi aveva continuato a frequentarlo in particolare si recava spesso in una palestra del quartiere. Aspetto importante per Giovanna è che quest'uomo ha origini casertane considerando il misterioso ritrovamento del cadavere di Maria proprio a Cajanello. Se l'assassino non ha contatti con questa zona perché agganciare la sua vittima al quadraro e poi dirigersi fino a Cajanello? Nei dintorni del quartiere ci sono numerosi posti isolati dove avrebbe potuto commettere il delitto. Giovanna Petrocca chiede alla scientifica di condurre dei rilievi per stabilire la statura della persona inquadrata nella foto ripresa a distanza ravvicinata mentre era il tornello d'ingresso dell'autogrill. La scientifica esegue gli accertamenti e conclude che l'altezza dell'uomo è pienamente compatibile con quella della persona a cui si riferisce Giovanna Petrocca. Questi dati vengono raccolti in un'informativa e trasmessi alla procura della Repubblica di Santa Maria Capoavetere. Il PM la dottoressa Galante chiede prontamente al Giovanna Petrocca di convocare questo soggetto in una data precisa ossia quando lei sarebbe andata a Roma per interrogarlo. Davanti al PM che gli contesta la sua presenza in quella foto l'uomo rimane sbalordito. Ammette di essere lui. sottolinea che avendo vissuto al Quadraro conosceva anche Maria Scarfò ma solo di vista. Questo soggetto come vi ho accennato è indicato come violento anche nei confronti delle donne inoltre deteneva legalmente un'arma. Gli inquirenti quindi gli sequestrano la pistola che viene smontata completamente dalla scientifica per verificare se nei meccanismi all'interno vi fossero tracce di sangue riconducibili all'omicidio. Il caso sembra quasi risolto ma arriva l'ennesima doccia fredda nel momento in cui l'uomo chiede quando era stata fatta quella ripresa. Giovanna Petrocca gli fa notare che sulla foto c'è stampata anche la data il 29 dicembre. Stranito l'uomo risponde che lui il 29 dicembre era a casa e non era da solo con lui c'erano la sua compagna e anche alcuni amici. Giovanna Petrocca sul momento non gli crede anche perché l'uomo guardando quella foto si era riconosciuto da solo ma siccome sostiene di essere rimasto a casa quella sera fornisce i nomi della compagna e degli amici che vengono convocati immediatamente. Tutti loro confermano il suo alibi quindi le indagini devono ripartire da zero. La persona immortalata nella foto era semplicemente qualcuno che gli somigliava molto ma nulla di più. Le investigazioni proseguono ormai è passato un anno dall'omicidio di Maria Scarfò ma tutte le piste di indagini seguite hanno fatto un buco nell'acqua. Gli inquirenti sono a un punto morto perché mancano nuovi elementi concreti da analizzare ma non abbandonano il caso. Negli anni successivi continuano a esaminare documenti e foto riascoltano diverse intercettazioni telefoniche analizzano nuovamente i tabulati ma in me niente conduce a una svolta. Gli anni passano fino ad arrivare al 2007. Giovanna Petrocca viene contattata dal PM di Caserta la dottoressa Galante la quale le dice che deve chiedere l'archiviazione per il caso di Maria Scarfò. Giovanna però non demorde anzi chiede che la polizia scientifica di Roma possa effettuare un accertamento sugli effetti personali di Maria accertamento che era stato eseguito dalla polizia scientifica di Caserta. Trascorsi sette anni dall'omicidio con le tecniche investigative che hanno raggiunto nuovi traguardi la speranza è che la scientifica di Roma possa attrarre nuovi spunti investigativi dall'analisi di quei reperti. La PM concorda quindi revoca la richiesta di archiviazione che non è ancora stata valutata dal GIP e delega alla polizia scientifica di Roma questi accertamenti sul materiale ora conservato a Napoli in particolare sugli indumenti di Maria. Quindi Giovanna Petrocca si mette in contatto con la biologa al servizio della polizia scientifica la dottoressa Stefanoni. Dopo circa un mese dall'invio della richiesta per l'ottenimento dei reperti la dottoressa Stefanoni richiama Giovanna e le informa che tra i reperti di Maria ha trovato una bustina contenente un salvaslip pieno di liquido seminale. Giovanna Petrocca è a dir poco perplessa. Cosa ha combinato la scientifica all'epoca? oltretutto il medico legale nel referto dell'autopsia aveva chiaramente sostenuto che non si evidenziavano tracce di violenza intima e che la vittima aveva il ciclo dunque il cadavere non era stato ispezionato a dovere? Pare proprio di sì. I reperti che vengono analizzati nuovamente sono il fular che Maria indossava il suo sopraabito e il salvaslip sul quale già dalle prime ispezioni con le luci forensi si evidenzia una zona lievemente fluorescente che suggerisce la presenza di liquido seminale quando viene eseguita l'analisi molecolare vera e propria dal salvaslip viene estrapolato un profilo genetico maschile e il test per la diagnosi tessutale conferma i sospetti dando come esito liquido seminale sulla base di questa nuova prova grazie alla lungimiranza di Giovanna Petrocca le autorità hanno finalmente il profilo genetico dell'assassino di Maria Scarfò questi sviluppi arrivano nel momento in cui Vittorio Rizzi capo della squadra mobile di Roma istituisce l'unità cold case per risolvere casi irrisolti è vero che gli inquirenti hanno ottenuto un dato importantissimo con il DNA dell'assassino ma è altrettanto vero che devono riuscire ad attribuirlo a qualcuno e si interrogano su come procedere iniziano con il prelevare il DNA da alcune persone che potrebbero essere coinvolte nella brutale vicenda di Maria a cominciare dal marito dal fratello e dall'ex fidanzato qualcuno dei sospettati viene pedinato e si prova a raccogliere il DNA di nascosto ad esempio recuperando un mozzicone di sigaretta o una tazza utilizzata in un bar ma nessuno dei profili genetici esaminati corrisponde a quello del colpevole arriviamo ad agosto del 2007 quando Giovanna Petrocca diventa vice capo della mobile e avviene un episodio particolare quattro giovani studentesse universitarie vanno in centro a Roma al cinema e poi a mangiare una pizza ma mentre si accingono a risalire in macchina di una di loro vengono bloccate da un uomo sui 45 anni che le minaccia con una pistola e sale a bordo della Renault Clio le ragazze chiaramente sono terrorizzate ma costrette a dargli retta l'uomo sostiene di aver bisogno di andare a Cinecittà per incontrare qualcuno dunque si mette alla guida e parte arrivati in questa zona diventa chiaro che ha mentito non deve incontrare nessuno bensì prende il raccordo e comincia a portarsi sull'autostrada Roma-Napoli dice alle ragazze che deve arrivare a Villa Literno in provincia di Caserta dove è nato e che loro devono accompagnarlo una delle ragazze a questo punto imponendosi di restare lucida riesce a mandare un messaggio a suo fratello avvisandolo di ciò che sta accadendo gli scrive in modo sbrigativo siamo state sequestrate devi chiamare la polizia il fratello chiaramente si rivolge immediatamente all'autorità e viene allertata alla stradale come racconta una delle ragazze rapite l'uomo a un certo punto imbocca un sentiero di campagna dopo aver percorso questa strada si ferma in una zona isolata di Caivano nel Napoletano perché vuole avere un rapporto intimo con tutte e quattro le ragazze disperate tra urla e pianti lo supplicano di non abusare di loro e lui forse spaventato dall'essere in minoranza le lascia libere anzi dice loro di stare attente mentre tornano sulla strada vi starete chiedendo cosa c'entra questa storia con quella di Maria Scarfò beh all'apparenza niente ma tutto è avvenuto sempre lungo il tragitto che conduce da Roma a Napoli Giovanna mentre parla con un collega che si sta occupando del caso delle ragazze dice a mo' di battuta ma vuoi vedere che è lui l'assassino di Maria Scarfò dalla descrizione fisica del sequestratore fornita dalle ragazze da una serie di elementi riscontrati da una chiamata che arriva dal carcere di Sulmona la squadra mobile riesce a identificare questo soggetto che è per l'appunto un detenuto del carcere di Sulmona in permesso premio e armato di pistola finito in prigione per rapina e violenza intima il detenuto si vanta con un altro carcerato di aver sequestrato quattro ragazze con la macchina di averle portate sulla Roma-Napoli chiaramente gli agenti della squadra mobile vanno immediatamente nel carcere di Sulmona prelevano questo soggetto e lo portano nei loro uffici a Roma l'uomo non nega di aver rapito le ragazze ma dice che l'ha fatto perché doveva vedere delle persone quando viene portato a Regina Celi gli inquirenti hanno già prelevato dei mozziconi di sigaretta che lui aveva fumato la sera del sequestro Giovanna Petrocca prende questi reperti che si trovano in una busta e li graffetta a una pagina del fascicolo relativo alla vicenda qualcuno però si meraviglia chiede a Giovanna a cosa servono ormai quei mozziconi e lei alza le spalle e risponde mica te li devi portare in tasca che danno fastidio sono nel fascicolo il giorno dopo il sequestro e il conseguente arresto appaiano su tutti i giornali e in primo piano c'è la fotografia del rapitore Sabattino D'Alfonso nel pomeriggio si presentano in questura due ragazze stravolte con in mano il giornale quest'uomo lo conosciamo dicono perché sette anni fa il 20 dicembre del 2000 in via Tuscolana ci ha costrette a salire in macchina ci ha portate sulla Roma-Napoli e ha fatto violenza su entrambe in maniera orribile Giovanna a questo punto è sempre più convinta che non possa trattarsi di una coincidenza l'atroce episodio che coinvolge le due ragazze era accaduto una settimana prima del delitto di Maria Scarfò le giovani erano state sequestrate da Sabattino che le aveva minacciate con una pistola e portate replicando la stessa dinamica verso la Roma-Napoli in direzione Caserta dopo l'abuso aveva riportato le due ragazze a Roma tra l'altro il fatto era stato anche denunciato dalle vittime ma nessuno aveva collegato i due episodi nessuno aveva pensato che questo soggetto potesse essere l'assassino di Maria chi aveva verbalizzato l'accaduto non aveva ammesso a conoscenza del grave episodio coloro che stavano conducendo le indagini sull'omicidio della signora Scarfò a questo punto gli agenti approfondiscono le ricerche sul passato di Sabattino d'Alfonso e accertano che nel dicembre del 2000 era agli arresti domiciliari proprio al quadraro detenuto per episodi di violenza di cui si era reso protagonista dunque in questo caso Giovanna che cosa fa? chiede al PM che si è occupato del caso del sequestro delle quattro ragazze l'autorizzazione a estrarre il DNA dai mozziconi di sigaretta di Sabattino per poterlo comparare col DNA estratto dal salvaslip di Maria questa autorizzazione viene subito concessa e i mozziconi vengono tempestivamente inviati al servizio di polizia scientifica passano circa dieci giorni sono le 19.30 e Giovanna Petrocca sta consultando dei fascicoli quando viene chiamata dal direttore del servizio della polizia scientifica il dottor Intini che le chiede Giovanna sei in piedi o sei seduta? lei risponde di essere seduta perché è in ufficio e lui ribatte bene è lui il DNA con bacia gli agenti convocano immediatamente in centrale Alfonso il fratello di Maria gli dicono tutto di persona la risoluzione del caso è stata possibile grazie alla costanza al confronto e alla cooperazione che c'è stata in quegli anni tra le forze dell'ordine che alla fine ha dato i suoi frutti quando viene accusato dell'omicidio di Maria Scarfò Sabattino D'Alfonso dice di non ricordare nulla quindi che cosa potrebbe essere successo a Maria quella sera? ora lo ripercorriamo la donna è uscita dal bar alle 20.30 per tornare a casa come tutte le sere è andata a prendere la macchina ma è stata sorpresa da Sabattino D'Alfonso che sotto la minaccia di una pistola l'ha fatta salire in macchina dal lato passeggero mentre lui si è messo alla guida si è allontanato da piazza del quadraro fermandosi prima in via degli opimiani circostanza che rimarrà sempre un mistero D'Alfonso non spiega perché si sia fermato lì dopodiché ha ripreso la guida e ha imboccato l'autostrada in direzione caserta probabilmente è uscito all'altezza di Cajanello o anche qualche uscita dopo e ha consumato la violenza ai danni di Maria in seguito ha preso la strada del ritorno per riaccompagnarla ma probabilmente lei si è ribellata durante il tragitto lui quindi si è fermato nella piazzola di Cajanello lei ha cercato di scappare ma lui l'ha inseguita e l'ha uccisa poi è tornato a Roma e ha dato fuoco alla macchina tutto questo mentre era agli arresti domiciliari per violenza a casa di sua sorella al quadraro il caso di Maria Scarfò smentisce tutti i dogmi sull'attività investigativa sulla vittimologia sulla priorità di ricercare l'assassino nell'ambiente delle relazioni affettive della vittima qui ci troviamo di fronte a un omicida che ha scelto di abusare della donna che si è trovato davanti e secondo un copione tipico della serialità ha ricalcato la condotta che aveva già posto in essere in passato per il rapimento e la tentata violenza delle quattro studentesse Sabattino D'Alfonso il 21 novembre del 2007 viene condannato a sei anni e otto mesi di carcere per la violenza esercitata sulle due ragazze sequestrate il 21 dicembre del 2000 D'Alfonso viene condannato il 10 ottobre del 2008 a 15 anni di carcere per il delitto di Maria Angela Scarfò Sabattino D'Alfonso viene condannato in primo grado a 30 anni mentre in secondo grado la pena viene ridotta a 16 anni la corte ha ritenuto di poter applicare le attenuanti generiche e ridurre la pena a seguito di una perizia psichiatrica che ritiene D'Alfonso incapace di intrattenere normali rapporti interpersonali vorrei concludere il video esprimendo il mio pensiero credo che abbiamo bisogno di tante poliziotte e poliziotti come Giovanna Petrocca che ha sempre lavorato a questo caso con dedizione Giovanna voleva rendere giustizia a Maria fin da subito ed è stata vicina ai suoi cari dal primo momento infatti tutt'oggi condivide con loro un rapporto affettuoso sono chiaramente dispiaciuta per quanto è accaduto alla povera Maria che aveva una bimba di 8 anni da crescere e altri sogni da realizzare ma sono contenta che il suo assassino sia stato individuato e punito sono inoltre molto felice di raccontare sul mio canale storie in cui la polizia ha lavorato con il massimo impegno spero attraverso le mie parole di avervi trasmesso tutta la dedizione che Giovanna ha impiegato per riuscire a risolvere questo caso detto questo io ho finito di parlare in questo video spero vivamente che questo video possa essere stato di vostro interesse fatemi sapere se conoscevate già il caso ma soprattutto fatemi sapere che cosa ne pensate di questo caso come al solito ci becchiamo sotto nei commenti io nel frattempo vi mando un bacione noi ci vediamo prestissimo al prossimo video mi raccomando fate i bravi continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene ma soprattutto prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici basta che non facciate nulla di criminale ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti